Questo è il video per tutti Sì Ahahahah Ma che Ma che Ma che Ma che A te diciamo O Deseo Cristo Sì anche mano tua c'hai in mezzo Ecco perché tu fiii così E io ne fiii Guardate Ma raggi un attimo qua Guardate un attimo Guardate un attimo Guardate un attimo Guardate un attimo Ma non si può tocare Ah ma me stai a battere 5 Ma come stai a tocare Ora a battere 5 Guardate Ma che cosa Ma che cosa Ma che cosa Io sono sano Guardate Io sono sano Guardate Io sono sano Aia Aia Ma che cosa Ma che cosa Ma che cosa Questa sta partito Comunque Issa Si 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 Anche Sì Buongiorno a tutti. 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 Buongiorno a tutti.